Il leone e la strega nell'armadio, le cronache di Narnia. Buonasera, disse Lucy. Il fauno l'appellano e rispose, era troppo occupato a raccogliere i pacchetti. Quando è finito, fece un bel inchino e rispose. Buonasera, scusa, non vorrei sembrarti curioso, ma credo di non sbagliare e si dico che sei una figlia di Eva. Io mi chiamo Lucy, rispose la piccola, che non era troppo sicura di aver capito bene. Però sei una bambina, vero? Ma sì, naturalmente, rispose Lucy. Allora appartiene alla razza umana, vero? Certo che sì, esclamò Lucy molto perpressa. Certo, certo, mormorò il fauno. Stupido io a far tante domande, dovevo capirlo subito. Ma, vedi, non avevo mai incontrato prima un figlio di Adamo o una figlia di Eva. Sono proprio contento. Il fauno si interruppe bruscamente, come uno che si sia lasciato scappare qualcosa che era meglio non dire. Però se ne era accorto in tempo. Lietissimo di fare la tua conoscenza, disse. Permetti che mi presenti. Mi chiamo Tumnus. Felice di conoscerti, signor Tumnus, rispose educatamente Lucy. Posso chiederti, figlia di Eva, come sei arrivata a Narnia? Narnia? E che cos'è? Chiese subito Lucy. Narnia è un paese. Qui siamo a Narnia, rispose prontamente il fauno. Il territorio che si estende dal Lampione fino a Carpalver, il castello che sorge sulle rive dell'oceano orientale, è Narnia. E tu, figlia di Eva, da dove vieni? Dai boschi selvaggi che si trovano all'occidente? Io sono venuta dal guardaroba che sta nella stanza vuota, barbetto Lucy. Ah, esclamò il signor Tumnus in tono alquanto triste. Se avessi studiato un po' meglio la geografia quando ero un piccolo fauno, saprei senza dubbio molte cose su quegli strani paesi. Ma ora è troppo tardi. Oh, non sono paesi, replicò Lucy. E quasi quasi le veniva da ridere. Tengo da laggiù. Non è lontano, almeno credo. Però laggiù è estate. E a Narnia è inverno, disse il signor Tumnus. È inverno da tanto tempo, ma se ne stiamo qui a cacchierare sotto la neve, prenderemo un raffrettore. Il fauno non aveva tutti i tordi, e in tono gentile aggiunse. Oh, figlia di Eva, che vieni dalla città di Guardaroba, nel paese felice e distanza vuota, dove regna l'estate eterna, che ne diresti di venire a casa mia e prendere un tè? Mille grazie, signor Tumnus, rispose educatamente Lucy. Mi chiedevo se non farei meglio tornare indietro. Ma è vicinissimo, è qui voltato l'angolo, insistette il fauno. Ho acceso un bel fuoco e ho pronto una bella focaccia. Sei davvero gentile, signor Tumnus, disse Lucy. Accentando l'invito, ma ti avverto non potrò restare a lungo. Prendimi sotto braccio, l'ombrello ci coprerà tutti e due, propose Sidon Tumnus. Vieni, figlia di Eva, da questa parte. E così Lucy se ne andò per il blocco, sotto braccio a quella strana creatura, come se fossero amici da sempre. Vieni, figlia di Eva.